A prode in consiglio regionale la risoluzione sul mistero dei fondi tolti all'ospedale dell'annunziata di Sulmona presentata dai consiglieri regionali Scoccia, Paolucci e Petrucci. La risoluzione per il ripristino immediato delle risorse per la nuova costruzione e la riorganizzazione del presidio ospedaliero di Sulmona è stata presentata diversi mesi fa, dopo che insieme al collega Paolucci abbiamo constatato che incendi risorse già assegnate per il presidio ospedaliero della città di Sulmona erano state dirottate altrove ricorda la Scoccia spiegando che la risoluzione impegna il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore regionale della Sanità Nicoletta Verri a ripristinare lo stanziamento di 30 milioni di euro a beneficio dell'ospedale di Sulmona cancellato con una recente delibera della stessa giunta regionale. Una battaglia a favore dell'ospedale di Sulmona che portò avanti da tempo con il collega Paolucci rendere all'ospedale dell'annunziata le ingenti risorse a lui destinate.